Sindaco Michele Rossi, oggi si inizia il cammino, quali le priorità, quali le cose che intende mettere in campo fin da subito? Oggi inizia il nostro percorso partendo proprio dal primo Consiglio Comunale, quindi un momento istituzionale importante. Noi abbiamo però già iniziato a lavorare, ma in questa settimana io ho già iniziato a prendere visione di quella che è la macchina amministrativa. Chiaramente bisogna entrare dentro in maniera anche con calma per capire bene lo stato dell'arte e poi dopo chiaramente lavorare per inserire le nostre attività. Chiaramente le priorità come avevo più volte accennato riguardano la manutenzione del nostro territorio, quindi un'attenzione particolare al quotidiano e poi chiaramente l'ascolto ai nostri cittadini. C'è un qualche principio, un qualche elemento della sua professione, ma anche del suo elemento umano che gli piacerebbe portare in Consiglio Comunale e nel lavoro della sua amministrazione? Sicuramente il lavoro di squadra. Io sono abituato a lavorare in team e quindi penso che veramente lavorando in squadra possiamo raggiungere obiettivi ambiziosi. Questa è una bella squadra, una squadra coesa che quindi ha grandi potenzialità e effettivamente io dovrò coordinare questa squadra per raggiungere gli obiettivi che poi ci hanno detto i cittadini in qualche modo. Ci hanno dato fiducia e quindi noi siamo qui per lavorare su questo. Per me è molto emozionante, penso che sarà una bella avventura, ho già iniziato da qualche giorno a entrare in comune e penso che ce la dovrò mettere tutta perché la gente con cui ho parlato ho promesso e cercherò di fare il possibile per migliorare il nostro paese, specialmente le cose essenziali. Si parte dopo una bella campagna elettorale, dopo una grande e ridondante vittoria che ci vede ribaltare le situazioni dei dieci anni precedenti. Sì, siamo contenti di aver trovato un sindaco giovane che sia stato gradito alla popolazione, che sia stato votato, che anche noi siamo stati votati a conferma che il nostro lavoro all'opposizione è stato un lavoro costante e direi fruttuoso. Le persone hanno avuto fiducia in noi, noi le restituiremo a partire da oggi sicuramente cambiando verso a questa amministrazione. Vorrei riuscire a unire veramente il nostro comune, partendo dalle associazioni, con i cittadini, questa è veramente una cosa che ci metterò tutto a me stesso.